arriva l'altro Braido se non sbaglio è proprio lui che si stocca al saluto la delfi è il tuo futuro per il giorno numero 10 questo è il tuo futuro addirittura il giorno di corrio viene in giro sta entusiascato all'ele Luca all'ele Braido porca troia ha fatto due metri di volo ma guarda te non posso allenarlo ma guarda te hai visto come lei salta fa due metri di volo lui è come lui quasi però fa un collettino nel senso se lui faccia una volta non ha fatto più da seconda non è quello che ha fatto la vittoria però Luca è capace da qua in poi di andare solo a chiedere la partita solo lui potrebbe farlo vediamo ancora 30 però lui avrebbe fatto il risultato ma quanto so vuoi dire OLE FONTANA! VAI FONTANA! OLE! FONTANA!